Sanremo 2023 Sanremo Tananai commenta il caso Blanco. L'ira del cantante bresciano contro i fiori presenti sul palco dell'Ariston ha suscitato le reazioni del mondo della musica. In particolare quella del 27enne cantante milanese, se succedesse a me un problema tecnico come il suo io toglierei un auricolare e se non sentissi chiederei di ripartire. Ammette Tananai che poi aggiunge, capisco quello che è successo ieri, ma so che si è scusato. Dichiara il cantante pop, in gara al festival con tango. Blanco, Robi Facchinetti, noi i fiori. Punto. Sulla vicenda è intervenuto anche Robi Facchinetti, frontman dei Poo, non abbiamo visto cosa ha combinato Blanco. Non possiamo dire nulla, ma ne abbiamo sentito parlare, ha colpito tutti. Sul perché abbia avuto una reazione di quel tipo però bisognerebbe chiederlo a lui. La voce dei Poo sottolinea inoltre che il palco di Sanremo è un palco straordinario. Particolare, che evoca tanta tanta emozione, ma chissà perché ha avuto reazione di questo tipo. Poi chiude con una battuta, noi i fiori li abbiamo regalati. Alle nostre mogli. Alle nostre amiche, e a volte anche alle nostre amanti. Virgola.